Il Castelluccio ha accolto tra le sue rinnovate e non appena ripristinate mura una delegazione di docenti dell'Erasmus Plus in visita al monumento simbolo per eccellenza della città di Batipaia. Due le nazionalità rappresentate dagli insegnanti coordinatori del progetto di interscambio culturale, Turchia e Portogallo. A condurli nelle nostre terre è stato l'interesse per la dieta mediterranea, la riscoperta per una tradizione alimentare che custodisce il segreto di una vita sana e longeva, l'attrazione per i luoghi e gli scenari mozzafiato della nostra provincia. A guidarli la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Salvemini, Anna Maria Leone. Ringraziato a tutti quanti noi di averla accolta così bene, sia a loro che alla delegazione turca. Ringrazio il progetto Erasmus che ci ha dato l'opportunità a tutti noi di poter stare qui. Il progetto Erasmus Plus è un progetto europeo, noi i coordinatori ci cerchiamo durante l'anno su varie piattaforme e organizziamo questi progetti. Vengono accettate dall'agenzia nazionale di ogni paese e quindi ci dà la possibilità di avere questi scambi per poter crescere in una comunità europea con le menti aperte. Il nostro progetto è basato sul cibo, attraverso il cibo, le tradizioni, le musiche, i canti e i balli di ogni paese, portoghese, Turchia e Italia, avremo la possibilità di poterci conoscere. I ragazzi già hanno fatto amicizia da ieri, da quando si sono incontrati davanti all'Hotel Palace dove alcuni di loro sono ospitati e altri stanno in famiglia. Adesso stanno con i loro tutor a scuola a fare attività insieme, senza i docenti. In una prima giornata già abbiamo raggiunto lo scopo dell'amicizia, di stare tutti insieme. Ringrazio la Turchia, il coordinatore della Turchia, già siamo stati in Turchia e siamo stati accolti in maniera splendida. Bellissima Istanbul, bellissima la scuola, tre giorni in Turchia sono stati magnifici e il prossimo anno saremo in Portogallo. Noi ringraziamo loro di essere stati i nostri amici e di essere ancora amici nel lungo tempo, perché i ragazzi non scorderanno mai questa opportunità che hanno avuto. Grazie mille anche a voi di averci ospitati in questo magnifico castello che è vanto della nostra battipaglia. Ho ringraziato tutti noi per l'ospitalità che abbiamo dato in un solo giorno, però ci saranno delle attività per l'intera settimana e loro, già leggendo il programma, si sono entusiasmati per tutto ciò che dovremo fare. Domani saremo a Pioppi a seguire la dieta mediterranea, visto che la parte centrale di questo progetto è basata su cibo e noi che abbiamo la dieta mediterranea come patrimonio dell'UNESCO, ci hanno chiesto in primis di visitare il museo e di poter capire in che modo noi italiani riusciamo a mangiare bene e riusciamo a vivere, secondo gli europei e le università americane, 100 anni. Io voglio ringraziare in prima persona il dottor Santese che ha reso possibile questo miracolo, perché questo era un vecchio fortino destinato ad andare distrutto, invece è rinato in tutto il suo splendore e abbiamo avuto l'onore di farlo visitare ai nostri partners europei Turchia e Portogallo. Grazie ancora e la prossima volta li porteremo ospiti nelle stanze del castello. Noi pensiamo che attraverso queste iniziative dobbiamo lanciare il paese, perché il paese ha bisogno di lavoro, i giovani e te che vanno tutti all'estero, speriamo che da qua si parte la rinascita del nostro paese. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.